E la carne? Troppo buona! E gli hamburger? Buonissimi! E la musica? Rigorosamente dal vivo! E la birra? Da volar via! Via Arpab, mangi, bevi e ti diverti. A Torricella Verzate, in via Emilia 2. Tanta paura ma alla fine nessun ferito. Questo pomeriggio, intorno alle ore 13, un pullman di servizio a Voghera è andato in fiamme a pochi metri dal pala oltre Po, nei pressi del centro Hauser. Sul mezzo di trasporto era presente soltanto il conducente, che non ha riportato ferite. L'incendio, stando alle prime ricostruzioni, si è sviluppato a causa di non meglio precisati problemi tecnici, probabilmente un cortocircuito. L'intervento dei vigili del fuoco di Voghera ha permesso di domare le fiamme, nonostante alcune difficoltà dovute al vento. Chiuso al traffico, per circa un'ora avvia le martiri della libertà, nel tratto compreso tra la rotonda di via Fratelli Kennedy e la rotatoria di via Galvani. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.